Sì, stiamo celebrando la Santa Pasqua di Resurrezione e insieme adesso cercheremo di meditare un po' soprattutto sul Vangelo che ci dice delle cose evidentemente molto importanti non soltanto per il giorno di Pasqua ma anche per noi. Allora, abbiamo sentito il racconto, nessuno ha visto immediatamente Gesù risolto, lo dicevo anche questa notte, diciamo, la Resurrezione si è svolta in questo modo, Gesù è risolto e non lo ha visto nessuno, ha lasciato gli angeli sulla tomba vuota e i primi ad arrivare l'annuncio degli angeli sono state le donne, poi le donne l'hanno detto agli apostoli, ma già all'annuncio della Resurrezione c'è anche quasi nessuno, Maria di Magdala, che abbiamo visto, torna al sepulcro, trova al sepulcro vuoto e che cosa pensa? Hanno occupato Gesù. Attenzione, Gesù prima di morire aveva detto guardate che io sto andando a Gerusalemme, sarò torturato, sarò ucciso, procipisso, ma dopo tre giorni risusciterò, Maria di Magdala, questa cosa l'aveva sentita, quindi vedi la tomba vuota, che è successo, sarà risorto il Signore, no? L'hanno portato via, sono andati dagli apostoli e ci dicono gli altri Vangeli a Dio, guardate che l'angelo ci ha detto che Gesù è risorto, chi lo sa che è successo? Sapete che lo pensano gli apostoli? Queste, chi lo sa, seppure bisogna fare le statistiche, ci saranno qualche donna che comincia a bere la mattina presto, insomma, forse sarà vattendo 100, ma non ce l'hanno creduto, capite? E sono corsi, abbiamo sentito il Vangelo, Pietro e Giovanni Coppolo, all'altra, dicono, non vedi che è successo, che cosa gli dice? Pietro è entrato, o Pietro è papa, è uno che è un calzo grosso, non è l'ultima rotta del campo, Pietro è il primo papa, il successore di Cristo sulla terra, indicato il suo tempo, dice Pietro, San Giovanni è stato l'unico, attenzione, che entra, vede la tomba vuota, osserva bene alcuni particolari, e ci stava detto, vide e credenti, a te, domanda, come mai Gesù ha scelto queste modalità così particolari? Non era più facile che chiamava gli apostoli, no? Quando è risolto? Alle 4 della mattina, all'aurora del giorno di Pasqua, chiamava gli apostoli, apriva la pietra, glielo facevano vedere con gli occhi, cioè l'anima di Cristo che tornava nel suo corpo, il suo corpo che si ricomponeva da tutto lacerato come era, che diventava bellissimo, perché così è stato, spolgorante, glorioso, si alzava in piedi, tanta roba, no? Ma non ha fatto così, perché non ha fatto così? Vole un interrogativo? C'è sempre un motivo, per due motivi, perché Gesù ha voluto che il contatto con la risurrezione avvenisse nel mezzo della fede, e la fede si cacampa con due cose, primo le orecchie, l'annuncio della risurrezione, gli angeli lo annunziano alle donne e le donne lo annunziano agli apostoli, c'è qualcuno che devono annunzi, ci credi o non ci credi? Prima cosa, la seconda dici, ma ci saranno dei segni tali che acclarano questo annuncio, quello che conferma? I segni ci stanno, la tomba è uova, solo che quel segno tu lo puoi interpretare in due modi, attenzione, uno è quello giusto, la tomba è uova, perché il Signore è risultato, l'altro è quello, umano, la tomba è uova, perché qualcuno si è venuto a fregare il corpo del Signore, allora state attenti, già l'omenia è quasi finita, hai visto che è breve, facciamo subito un passaggio, noi ci crediamo che Gesù il Signore è risorto, io non fa niente che sono prete, non fa niente ma che sono vescovo, non fa niente ma che sono papa, il Papa Francesco ci ricorda sempre, perché in conversione ci stiamo camminando tutti quanti, ma io ci credo sul serio che Gesù è risorto, veramente? Io non ho mai visto il Signore è risorto, io sono il suo ministro, sono il suo prete, sperando la vita per lui, capite? E desidero ogni tanto che tutte le persone non lo possano riconoscere, incontrare, ma almeno non l'ho mai visto, non l'ho visto, non l'ho avuto, perché dopo queste cose Gesù è apparso agli apostoli, dopo però, non prima. Allora, domanda, vogliamo vedere un pochino di cose che sono molto simili alla risurrezione? Cominciamo a pensare alla Messa, pensiamo alle due cose che la Chiesa ci deve fare per Pasqua, cosa dobbiamo fare per Pasqua? Vi ricordate la legge della Chiesa? La confessione e la comunione, senza confessione alla comunione non si può fare, d'accordo? A proposito che ci fosse qualche ritardo tardi, non ti muore, io sono acquistato una settimana a disposizione due, quattro, quattro giorni al giorno in confessionale, quindi purtroppo sono solo, quindi adesso non troverete i confessori durante la Santa Messa, perché uno sono, per Paolo non c'è, e quindi sono da solo. Però per fare la confessione c'è tempo, fino a domenica prossima, per fare la confessione e la comunione di Pasqua, per chi ci avesse questo desiderio, perché da oggi comincia l'ottava di Pasqua e per tutta la settimana, anche andando a Messa durante la settimana, si può fare questa cosa. Attenzione, cominciamo a fare, che cos'è la confessione? Che cos'è la confessione? E che cos'è la messa? Come vedi io la confessione? È una cosa, tanto che fanno, si fanno dalla soluzione, oppure mi faccio una ghiacchierata, oppure mi vado a sfogare di tanti i miei problemi, queste sono tutte quante cose buone, fare una ghiacchierata con un sacerdote è una cosa buona e utile. Sfogarsi dei propri problemi, avere nel sacerdote un cuore che ti accoglie, un cuore che ti ascolta, è cosa buonissima, d'accordo? Io questo lo faccio, ma la confessione è un'altra cosa, la confessione è un'altra cosa. La confessione è un atto di umiltà in cui dopo che tu ti sei messo sinceramente a confronto con il Signore, perché il Signore per i nostri peccati è morto in croce, capite? Questo la Chiesa ce l'ha insegnato quindi da quando stavamo a catechismo, ma per fare una morte così orrenda, ma ci sarà un motivo serio oppure no? Quando una persona pensa, ma io non ho fatto niente di male, capite bene quello che sto dicendo, anche se non ha questa intenzione, cosa sta dicendo? Che Gesù Cristo come poteva pronomini, croce, tanto io non ho fatto niente, non lo pensa, capite quello che sto dicendo, non ha questa intenzione, ma di fatto è così, perché se il nostro Signore ha fatto questa cosa, diciamo che, allora io ci credo che quando mi vado a confessare dietro nel sacerdote, vedete quello che si vede e quello che non si vede, la tomba vuota, c'è il nostro Signore Gesù Cristo che ascolta la confessione, io se potessi non confesserei, d'accordo? Perché non è una cosa, non è una cosa piacevole, non è una cosa semplice, capite? Ascoltare una confessione e aiutare un penidente, ma lo devo fare per forza, perché la notte di Pasqua, il nostro Signore ha detto agli apostoli, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete resteranno rimessi, capite? Quindi Gesù non li rimette i peccati senza il ministero di un apostolo o di un suo collaboratore come io, non c'è cosa fa niente, capite? Non c'è modo ordinario, capite? Ma io ci credo che dietro del sacerdote c'è il nostro Signore, che mi sto confessando a Lui, non sei consapevole dei peccati commessi? Beh, un don donato come tutte le chiese l'hanno fatto, sul tavolo di una stampa c'è uno schemino con un esame di coscienza, mettendoli dinanzi ai dieci comandamenti, ti fa vedere le principali cose serie, con quello che noi ci dobbiamo confrontare, perché prima della confessione dobbiamo rinnovare la coscienza del peccato, capire cose belle e cose male, e poi ho in mente andare a chiedere perdono a Gesù che è ben felice di darci, mi dico, ma io ci credo o non ci credo nella confessione, punto interlocutivo, che si fonda di perdono, ma io ti confesso con il nostro Signore Gesù Cristo dice qualcuno, padronissimo di farlo, ma il nostro Signore Gesù Cristo ti dirà, figlio mio, abbi pazienza, no? Io ci capisco qualcosa di più, se io la sera di Pasqua ho contato anche a posto di questo mandato, tu devi stare a quello che io ho deciso, capite? Perché non è che ce ne siamo tentati nei pleni, questa è volontà del Signore, è come il discorso sul matrimonio, o quello che avevamo, aggiunte le questioni che si fanno, divorziate delle cose, il nostro Signore ha detto che due persone che si sposano sono una carne sola e che loro non possono sciogliere ciò che Dio unisce, capite? L'ha detto lui, e ha aggiunto, se una persona sposata va con un altro, commette l'interio, e se una persona non sposata va con una sposata, commette l'interio, l'ha detto lui, capite? Manco il Papa può dire, capite? Perché il Papa stesso, che non è sul Papa per riconare cosa dice, ma è sottomesso alla parola di Gesù. Veniamo alla Santa Messa, voi sapete che se aprite il Catechismo della Chiesa Cattolica, questo nella coscienza dei pedeli, non è sempre molto vivo, c'è scritto che mancare alla Santa Messa dominicale è un peccato grave, le persone chiaramente non si rendono conto di questa cosa, quindi dicono, ma se è un peccato grave non andando a Messa, ma che sarà mai? Io umanamente posso pure capire, ma perché è un peccato grave o mancare alla Messa? Cos'è la Messa? Anche qui, un conto è quello che si vede, un conto è quello che non si vede, teniamo sempre presente la tomba vuota, che cos'è la Messa? Visione o mano? Un rito della religione cattolica, punto. Provate un attimo a rispondervi ancora alla domanda, se un vostro amico vi chiedesse, mi dici in tre parole che cos'è la Messa? Che vi rispondi tu? Siamo cattolici, siamo a Messa qui, che vi rispondi? Se vuoi parlare di un po' di sensi, risposta di parlare io, la cosa più grande che esiste nell'universo, perché la Messa, tu non lo vedi con gli occhi, ma qui c'è la rinnovazione sacramentale del sacrificio della croce, cioè Gesù che è morto in croce, si è inventato il miracolo che è la Messa per mettere in contatto con il suo sacrificio, gli uomini, gli uomini, l'uomo e il tempo, solo che lo vogliano, perché noi abbiamo bisogno di stare in contatto con il consacrimento di Gesù. Anche qui come prima, chi tra chi trascura la Messa non ha questa intenzione, ma è come se stesse dicendo al Signore, il fatto che tu sei voluto in croce per me e ti sei inventato un miracolo, perché per stare qui Gesù deve fare un miracolo che non si vede con gli occhi, ma ogni tanto come sapete, anche qui abbiamo un cervello. Noi siamo andati l'anno scorso, il pellegrinaggio parrucchiano, dovete essere presenti a Lanciano e a Manopello, a Lanciano c'è il miracolo peristico più antico del mondo, sono 1200 anni che un pezzo di pane si è trasformato in muscolo cardiaco che appartenente al cuore umano, un gruppo sanguigno di positivo, capite? Questo è un fatto che interpella la nostra ragione, sono 1200 anni che quella cosa sta lì, soggetta alle intempere, alle musure, sta ancora lì. Come mai? Quindi il nostro Signore ogni tanto ci dà dei segni della fede, ma io che cosa penso della Messa? Che è una cosa va bene o che è una cosa grossa? È chiaro che sì, io penso di una cosa grossa e per fare questo ci vuole la fede. Cosa dice il sacerdote sul vino dopo la consagrazione? Ricordate? Che dico? Mistero della fede. Cioè tu non vedi niente, ma da quel momento in poi sull'altare ci stanno il corpo e il sangue di Cristo. Attenzione, separati l'uno dall'altro, cioè il corpo e il sangue. Domanda, il vostro sangue adesso dove si trova? È separato dal vostro corpo o è dentro il vostro corpo? È dentro, giusto? Come faccio io a separare il sangue dal vostro corpo? Devo ferirmi? Devo dare una volta in lato? Devo far uscire il sangue? Giusto? Perché sull'altare il corpo e il sangue di Gesù sono consagrati separatamente? Perché in quella separazione sacramentale si rinnova la fuoriuscita di sangue che Gesù ha avuto quando soffriva e morìa per noi. Questa è la messa. Capite? Capite che cos'è la messa? E gli angeli, ha detto un santo, di fronte alla messa stavano con due occhi così perché gli angeli dicono io so che più o meno che cos'è la messa, so come la celebra dei sacerdoti, gli angeli non la possono celebrare, noi siamo a loro, ma dirti la sua grandezza e la sua importanza. Io che sono un angelo non sono un buono perché è il sacrificio di un Dio. Capite? Allora capite perché Gesù anche nella risurrezione, perché noi siamo salvati per mezzo della fede, la fede si fonda sulle orecchie, quello che la Chiesa ci annunzia e sui segni, il segno che è presente Gesù sull'altare, sui dà, sapete quanti miracoli e caristi ci sono portati in Italia? Vincasolo non ci hanno, sono 25, attestati, scientificamente provati, in varie parti di Italia, per cui se qualcuno dice ma come faccio io a credere che lì? Vai, controlla, in qualche circostanza il nostro Signore ha fatto vedere con un miracolo ciò che accade sempre, cioè che da quell'ostia è diventata carne e è uscito sangue. Dopodiché tutte le altre messe questo non si vede, tutte le messe sono stoccate, quindi altro è quello che si vede e altro è quello che si crede e quello che si crede si vuole anzitutto, è quello che si ascolta, ecco perché è importante che la nostra fede sia formata e che noi continuiamo a formare la nostra fede non accontentandoci di quello che abbiamo imparato, grazie al Signore, colcate che si vede la mia vita, non vede la fede. Senza questo, come dire, Gesù risorto è semplicemente un evento, un'occasione per fare un po' di festa, per stare un po' insieme per carità, io anche oggi vado a pranzo con la mia famiglia, è bello anche questo, ma Pasqua è anche molto alto ed è la possibilità di un inizio di una vita davvero nuova, rinnovata dalla potenza di Gesù risorto. Siamo dotati a Gesù e Maria. Siamo dotati a Gesù e Maria.